Ti diamo il benvenuto su WeSchool, l'unica piattaforma per creare learning community su misura in pochi minuti, valutando l'impatto e il progresso di ogni singolo studente. Prima di cominciare, rendi unico il tuo ambiente digitale con i colori e gli elementi del tuo brand. Perfetto! Ora crea il tuo primo spazio per organizzare i gruppi in base alle tue necessità e preferenze. Importa, carica o integra qualsiasi risorsa. Puoi farlo direttamente su WeSchool, ma anche tramite il servizio che preferisci. Devi organizzare una lezione live, sincronizza gli strumenti di videoconferenza senza dover lasciare la piattaforma. Niente più, condivisione password, tab aperte e link introvabili. Accedi alla live con un singolo click. E per creare conversazioni di valore, posta aggiornamenti sul wall, commenta i contenuti o lascia domande per coinvolgere i tuoi studenti. Per messaggi privati, puoi comunicare con i singoli utenti tramite la chat. Misura la performance tramite la dashboard, monitora il livello di engagement, gestisci accessi e permessi, raccogli e ascolta i feedback. Prova WeSchool, l'unica piattaforma che ti permette di creare percorsi di formazione dalla A alla Z in pochi minuti.